Ciao, sono Mario. Benvenuti in questa nuova puntata di Scopriamo l'Italia Assieme, con Viaggiando Italia. In questa puntata ti consigliamo un itinerario che potrai compiere anche in un solo giorno e che si svolge nel Lazio. Durante questa gita potrai ammirare il lago Fantasma di Canterno, molto particolare che appare e scompare, il borgo storico di Fumone, molto ben conservato e dove si mangia benissimo. L'antica certosa di Trisulti costruita più di mille anni fa. Segui i link in descrizione per scoprire di più. Iscriviti al canale. Leggi, viaggia e sii felice con viaggiandoitalia.it. A presto!